Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro, il Gorel Tank, e questo è un nuovissimo video che faccio. Questa volta un video particolare, si tratterà di una challenge fatta con i miei compagni, fissa in tre parti. La prima parte saremo bendati e sarà un rigore tirato in porta, ok? Ognuno avrà tre possibilità. Dopodiché, nella seconda parte, saremo sempre bendati ma la palla ci verrà passata da un nostro compagno. E la terza parte sarà un tiro bonus e consisterà nella palla lanciata alta da un proprio compagno e dovrà tirare al volo. Guarda qui, chi farà il tiro al volo vincerà tutto. Ora presento i miei compagni... Alan. Alan. E lui è addormentato con me. Vegna! E di chi sei? Ma loco! Magic. Mia madre. E' suo fratello, Teo. Io nonno. Va bene, iniziamo ragazzi. Inizierò io. Bendatemi ragazzi. Esatto. Bendatemi. Devo mettermi davanti alla palla. Chi è che prova? Qua, qua. Devi toccare la palla. Tocca. Ecco qua. Sì, ma non togliermela. No, no, vai. Vabbè, dai, rimettigli. E qua, qua. Vai, quando sei pronto. Com'è la pirateria? Perché mi partiva la rosa? Sì. La senti. La senti? La presenta. Com'è non la prende di nuovo? Oh, però, dai, c'era quasi. Mi è andata? Fuori. Vicino al palo. Va bene, ragazzi, ora tocca a lui, a me, Jack. Tocca a me. Ok, chi è che l'ha bendato? Tu mi hai bendato. Oh, you touch my tra-la-la-la. Mmm, my ding-ding-dong. È stato duro. È di là che mi dici. Dai, è dritto sopra. Alan, Alan è un sabottatore. Oh. No, è già, so già che è andato di là. Ma, vedete la sua centrale. Oh, buona. No. No. Oh. Bravo. Forse è stato il migliore finora. Almeno è centrata la porta. Adesso vedremo. Vai, che fa gol sotto l'introdo. Che fa gol. Il secondo turno abbia inizio. Eh, guarda. Rasoterra. Rasoterra così, c'è il portiere. Prossima, prossima col video, col portiere bendato. Ok. Dov'è la parte? Allora. Allora, con la punta. Si ha visto. Vai in avanti, stazione. Oh, non fate lì. La palla è sempre più. Non si è mossa. Urca. 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 È andata? No. Cambio veloce di portiere, ragazzi. Così. I nostri portieri... Sperare? Hai capito, no? Vai. Vai. Vale, raga. Cambio anche di giro, abbiamo cambiato tutto. Vai. Non è che vedete. Sente dalla regia, attenzione. Tu hai fatto due tiri decenni. Non l'ho preso. E l'hai tolta, ma... No. È qua. È qua. È tolta. No, no. Lo vedrò nel video. Sì, tra. Ceri, ceri. Grazie. Bellissimo. Zero su tre. Zero su tre. Che schifo. Vai. Che cazzo è la porta? Hai tirato. Ma che tirato? Ma che tirato? Idioti. Come è possibile? Non vedo un cazzo. Meglio che non vedi un cazzo. Noi, tirato. Ti arriviamo. Petro, mostragli il tuo. Non vedo un cazzo. Tan, 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 tan. C'è un soretto. Raga, è il primo. Avremo fatto quanti? Troppo bravo, Rai. Troppo. 15. 15. No, 13. 12. 12. 40. 12. Raga, ma tu fa 2 per 5, 10, 11. Questa che era? Era 12. Ah, no, 12. Perché pure 6 era. Ignorante. Ah, tocca a Martins. Bello, ma non hai segnato. Tocca a me. Anche tu in porta. Il portiere rischia in frente. No, no. Ce l'hai qua, eh. Tempo in qua. Tempo in qua. Tempo in qua. No, dai, raga. Che schifo. Sono incredibile. Ora, ragazzuoli, arriva il momento difficile. Non il più difficile, perché quello arriva dopo, ma il momento difficile, cioè quello del passaggio. Ora, io sarò fermo qua. No. Sì, ci avviciniamo un po'. Da qua. Da qua. Da qua. Da lì. Ti può, ti invita. Ok, ti vedo da qua. Bendame, mujer. Mi deve fare 3, 2, 1. 1. Oh, sei lì quasi. 3, 2, 1. No, troppo presto. Vai, primo tentativo di Matteo. 3, 2, 1. Bello. Ehi, vimpiate, oh. Però era bello. Non è bello. Non è bello. L'ultimo del primo giro, ma sei. Non l'ho capito. Ti ho preso questa rapidità. Quella, lì è la porta. Ma, ma. 3, 2, 1. Ecco il secondo. Sì, ma non è mica la cazzo. Ma dov'era? È giusto. Stai mirando la rete. Ecco il secondo. Ok, 3, 2, 1. Eh, ma gli hai dato a storia. Sì, ma dalla dritta. Questo è simpata. Sì, questo ho sbagliato io. Sì, mi fa. Boom. 3, 2, 1. Almeno l'hai preso. 3, 2, 1. Super andata. 3, 2, 1. Vero. Secondo tentativo di Matteo. 3, 2, 1. Chi siamo, ragazzi? Sì, siamo. Sì, siamo. 3, 2, 1. Buona. No. Sì, stai spostato. Terzo tentativo. 3, 2, 1. Guarda. Guarda, Alan. L'hai visto? Era carino. 3, 2, 1. Uff. Sì. Sì. Tutti a zero. Tutti a zero tranne Iacomo che a uno. Rischia di vincere con un solo gol scurato. Ma io sarò troppo bravo. Il portiere mette in difficoltà le persone, ma è giusto così. Ci vuole difficoltà. 3, 2, 1. Allora, l'ho visto per terra. Beh. Andrea. Ecco, ragazzi, l'ultimo dei primi. Hanno già fatto tutti il primo giro. 3, 2, 1. Allora, ragazzi, cambio di programma. Il bonus sarà la traversina. Che è più semplice. Però no, Luke. Anche questo è giustamente bendato. Il più semplice è un corpo in realtà. Questa volta inizia l'opera. Come primo. Tanto non c'è bisogno di un portiere. Oh, per lei la vincione al palo. Gol. Se l'avesse fatto pochi minuti il palo avrebbe segnato. Sono un parlatore di grado. Oh, il copo. Non è la manca. È la mia macchina. Ah. Tocca a te. Puta. Oh. Allora, riusci. Allora, riusci la torscia. Io lo riesco solo. Ogni screen è un asciutto. Ogni scritto ti deve pagare. Quando siete disposti a vedere il suo drago? Ultimo tiro dell'ultima serie. Della serie bonus. Non c'è. Oh. Raga, l'ho preso. Raga, l'ho preso. Eh, raga. Raga. È il più scarso di noi. Sono il più scarso. Guardate come sono vestito. La basket. È quello ignorante. È quello che non capisce. La scatola comprate oggi. La scatola comprate ieri. Ieri. Vi rendete conto? Eppure l'ha fatta. Io direi che... Ma io l'ho fatta. Ma l'ho preso sopra sotto. Cioè, quindi è uscita poi. Sì. Bella. Cioè, no, bella mica tanto. Io direi, raga, il video si conclude qua. Vi ringrazio tanto per la visualizzazione. Vi invito a cliccare. Aia, mi piace. Raga, l'ho fatto attraverso. Se il video vi è piaciuto. Ringrazio i miei deficientissimi amici. E... Anch'io vi ringrazio. Ho preso un po'. Ho preso l'attraverso. Se non ci passate voi, chi è il camera? Ringrazio i miei stupidissimi amici che vogliono farmi i tunnel. Vi invito a iscrivervi, se l'ho già detto. Boh. Vi auguro una buona continuazione e ciao, belli. Ciao, ciao. Ciao, ciao.